Ben tornati a un'altra scopietante puntata di Bisquare Gaming sempre qua con Destiny e con il nostro vano tentativo di fallire un pochino di meno Ti prego, cioè ti prego No, la mettiamo, tanto Possiamo lasciarla perché c'è Ti stai rendendo conto che una partita sia una partita non fa questa roba guai? Cioè, sembra che mi prendono per il culo Con l'invalutazione di fallire di meno Cacciato Dai, raga, io non ci credo Adesso magari ti mettono gente pro e perdi miseramente No No Hai voglia di pizza, tu? Hai voglia di Tampax Alla Nutella Chiediamo scusa a tutte le poche donne Ma basta, cioè non è che se uno dice Tampax devi chiedere scusa alle donne Cioè non è che hai detto tutte le donne sono un puttano Hai detto tipo Tampax Non devi chiedere scusa a nessuno Ma magari sei becchi, insomma Vabbè Becchi una che è un Tampax Abbiamo un fan Tampax che ci siete discriminato Eh Vabbè ci sta Ah che bella la nostra nave Secondo me ha l'aerodinamica di un mattone Tipo Tipo che se superi 50 allora si scartaccia tutto Ma è che Anche loro ce le hanno Sono i nostri amici di Navi Oh 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 Ah Fisca Scambiamoci i numeri subito Sono i nostri nuovi migliori amici Sei contento? Esce sempre Tampaxone Comunque con i tempi di criticamento puoi andare a fare la cacca Cioè Sì Però Eh no lo so Sei bello caldo Eh rispondi però Rispetto a tutti Sì Quadra alfa Oh stavi gioca Dateci dentro guardiani Conquistate tutte le zone Sono Sonniferi Esatto Salta un po' dai Per una volta salta dai Balla fa qualcosa Quindi secondo me Prima posizione Zona B Sicura A moi Io non ho parole Due ore per morire Potremmo farci un film Vabbè che non l'ho preso in testa Vabbè che non l'ho preso in testa Vabbè che non l'ho preso in testa Preciso ogni volta Sì ma poi soprattutto Ma tu ci credi che tutti gli altri Sono precisi Eh infatti Così la prendete in testa Nooo C'è una dieta Non l'ho preso in testa Non l'ho preso in testa Vabbè io ci ho provato Sempre lui eh Che ti ammazza Flowman Vega Di flow Cio feca lì Zone C Persa Ma io nelMetro sento dei rumori strani Adesso c'è stato tipo VSS E' un alleno che scuregge Dai dai che facciamo i punti dai Veloce 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 instant killerato come l'instant killer degli alien c'è uno stronzo che spara minchia hai usato le munizioni del fucile a pompa ricordati di ricordare ricarica è solo al massimo capo scherciato quadrato ricaricato ergo sei figo zona a ma dove sono tutti non è che sono di meno prova quando quando sei no o si muovono compatti uno è sopra zona c fersa zona a neutralizzata la natina no ti ha droppato però non sto capendo più il cazzo dove sono cosa sto facendo da dove vengo dove andiamo zona a sicura no ovviamente sarò ultimo abbiamo documentato giù non ti preoccupare c'è un video che prova ti ho fatto dei punti che hai fatto dei punti quindi io ti credo quando mi dici che ero ti sei guadagnato la fiducia di tutto il popolo di youtube con questo video secondo me sicuramente guarda proprio mi chiameranno tutti nel loro team super caricata comunque ne ho visto ma vuoi usare sta cazzo di su per sparare a questi strozzi non ho capito cosa mi ha ucciso sai che non ho ah una granata perchè quando io uso le granate non muore mai nessuno hai conquistato la zona b voi controllate tutte le zone io seguo questo così un giocatore è abbandonato eccolo la hai visto quella angel dv a aspetta che cos'ha l'angel dv a fucile a ricognizione forse è fucile a ricognizione che forza forse ha sparato col lanciarazzi non lo so che cazzo ne so io beh io so soltanto che l'ha instant killerato cioè proprio cioè ma proprio l'altro non ha avuto neanche il tempo di sorridere alla vita mi scusi vai sopra prendi la testata per una volta ma è una gioia ma è una gioia ma è una gioia ma che c'è l'altro stronzo dietro comunque ne ha ammazzato uno eh no no ma infatti no sei sulla mina giù sei sulla ma perchè l'ha lanciata qua così a muzzo per chiudere la strada perchè voleva bloccare ovviamente lo stronzo ci ha venito subito dentro ottimo lavoro cazzo non hai fatto i punti come non ho fatto i punti eh no perchè sono penultimo capo penultimo ok il nemico ha conquistato la zona B qual'è che andranno tutti su C arroccati un tipo che sta venendo da scomparso scomparso la zona B è neutrale è stato scopato figa l'ho proprio visto saltare è sempre il signor angel di via ma probabilmente fu c'è ricognizione quello che prendendo primavera uno proviamo a usarlo eccolo qua vediamo vediamo è quello vedi devi continuamente come dire è meglio dai poi per un per i gente come noi che abbiamo mira proprio no ma il problema è che tutte le volte devi cioè non puoi tenere premuto cioè capisci c'è uno stranzo qua di qua qua di fianco a te qua di fianco a te beh minchia l'hai quasi ucciso Gio tu dici però devi uccidere non devi quasi uccidere però il problema è 75 punti solo con respawling quindi è come se tu avessi ucciso qualcuno no dai è bello bello powerful e poi vedi che non ti perde di mira beh dici? forse ho detto una cazzata forse questa è una cazza una strepitosa zona b sicura voi controllate tutte le zone dov'è? dai eh vabbè figa c'è mi ha dato un dell'ultimo dell'altra squadra e mi ha scopato dai 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 madonna laser c'è un'ascava sì madonna laser è una bestia dai dai porca misera Gio non direste robe che siamo un vatican friendly come chanel che cazzo dici? abbiamo un papa francesco tra i nostri iscritti l'abbiamo detto l'altra volta l'ho fraggato settimana scorsa papà francesco dai Troppo tardi Quello da 75 Dove sono i merdoni Questo Angel di via Vediamo cosa fa lui Lui è pro eh Lo seguiamo Questa qui c'è un lanciarazzi La zona B è neutrale Ho ammazzato un botto di gente Non so perché Ci sa lui Che cazzo Hai neutralizzato la zona A Hai conquistato Comunque stai rullando di più Da quando hai messo questo fucile Se ne ha un porta fortuna O magari invece è semplicemente forte Zona C persa Zona B persa Zona B persa Il nemico con questa zona B Zona C si muove Minchia Mi piaciuto Minchia Joe Minchia Minchia Joe minchia Ti giuro Ci sta venendo nelle mutate Mamma mia ragazzi Ci riprovo No no Sono arrivati È arrivato Angel Che significa che sono tutti morti La zona B è neutrale Zona A Tanto perché hanno tutti una gonnellina Un po' fru fru È la moda capo È sessualmente un pochettino incerta Vabbè ma scusa Sembra una roba da centurione No Sì Zona C persa Ha fatto guardiana E ovviamente sono morto Chi ti ha inciso Con la granata Ah eri proprio sulla granata Come piace a te Però dai Ma proviamo a usare questo Secondo me Questa squadra Ha vinto solo grazie a te Comunque si è andato bene Ma Vabbè adesso Vabbè cosa ho quasi fatto Quella taglia Vabbè stai rullando sto giro Sempre fatto 067 Sempre storicamente o No dico Ancora no Sconfiggi Dai Dai che me ne manca uno E mi dà la taglia Dai Dai Bella di padella Alla prossima ragazzi